Anika Liderwieser, 32-19, un punteggio che forse ci punisce più di quello che abbiamo fatto vedere nel primo tempo, abbiamo sbagliato forse qualcosina di troppo al tiro. Sì, secondo me abbiamo sbagliato gli ultimi 5 minuti del primo tempo, che siamo andati male, poi la Serbia ovviamente è una squadra di esperienza e ti punisce subito. Ci ha fatto due gol, poi siamo stati sotto di 5, se eravamo già sotto di 3 è un'altra storia. Poi subito nel secondo tempo abbiamo preso due minuti, hanno fatto due gol e poi erano già sette. Lì è difficile avvicinarsi con una squadra così che ha questi giocatori di esperienza. Adesso dobbiamo lavorare, a marzo abbiamo le due partite con l'Ucraina. Qual è la tua opinione su questo girone di qualificazione? L'Ucraina la conosciamo, noi la conosciamo un po' perché alcuni giocatori giocano in Ungheria, che abbiamo già giocato contro, poi ci sono un paio di giocatori che giocavano al B, abbiamo visto il video che hanno fatto dalla partita che hanno giocato contro la Serbia. Comunque è una squadra fisicamente molto forte, hanno un bel gioco, però noi vogliamo vincere. Il nostro obiettivo è vincere quelle due partite a marzo e da adesso secondo me inizia già la preparazione per queste due partite.